Questa è l'informazione per il secondo. Un giovane mountain bike si è perso ieri lungo i sentieri di Via Danica, cioè tutt'altra parte. La sua auto è stata ritrovata parcheggiata nei pressi della chiesa di Via Danica. Il vostro compito è quello di perlustrare il sentiero che costeggia tutta la Val Maggiore, dall'Erano fino a Colognola, prestando attenzione ad eventuali punti esposti in cui potrebbe essere scivolata. Ci voleva il Severino che è abituato a scivolare. Che macchina aveva? Vabbè, intanto ha già parlato dei punti esposti. La Val Maggiore. Ciò vuol dire... Dall'Erano fino a Colognola, ecco, quella zona lì, te la conosci in Unzio, no? Dall'Erano fino a Colognola, cioè Dall'Erano... Dall'Erano doveva ritrovare. Lui è fuori gioco. Conosce la zona. La valle sotto a destra? La chiesa con la parrucchiale. Sì.